Per il terzo anno consecutivo l'Istituto Giovanni Verga di Gela ha programmato ed avviato l'English Summer Camp, una nuova proposta per un'esperienza nuova, interessante e divertente. Il campus è rivolto a ben 60 giovani partecipanti dai 5 ai 13 anni. È stata potenziata la lingua inglese con tutor madrelingua provenienti dall'Irlanda e dall'Inghilterra attraverso una metodologia ludico-didattica, una full immersion giornaliera nella lingua e nella cultura inglese per due settimane. Un mix perfetto, se vogliamo, di divertimento e apprendimento. L'English Summer Camp rappresenta un'autentica full immersion nella lingua e nella cultura inglese. Il punto focale di questo Summer Camp è il divertimento e il gioco, quindi learning by playing or learning with fun. Quindi l'apprendimento in questo modo diventa efficace, significativo per i bambini e soprattutto indimenticabile. ricorderanno per sempre questa fantastica esperienza. È una bellissima esperienza anche per noi formatori, per noi insegnanti, dal momento che ci permette di comunicare in lingua inglese e di confrontare il nostro sistema didattico con un altro completamente diverso dal nostro. Abbiamo 5 tutors, 3 irlandesi e 2 inglesi. Ogni tutor ha una classe di bambini di età diversa e quest'anno abbiamo anche bambini in età prescolare. Questo dimostra che non è mai troppo tardi né troppo presto per imparare la seconda lingua, tant'è che i bambini apprendono attraverso la ripetizione orale, la ridondanza, il gioco, il divertimento. English Summer Camp è un'esperienza che coinvolge i partecipanti, i docenti, i coordinatori del progetto, quale occasione di aggiornamento sui metodi alternativi ma altrettanto efficaci di insegnamento ed apprendimento. Le famiglie ospitanti hanno dimostrato apertura e grande senso di accoglienza. Ogni giorno, dalle 9 alle 16.30, i gruppi sono impegnati in attività ludiche, sportive, recitazione, canto e tanto altro, mirate tutte all'apprendimento della lingua attraverso l'ascolto e la ripetizione. Anche quest'anno con l'English Summer Camp la scuola si apre offrendo agli alunni dell'istituto e non solo del territorio un'offerta formativa direi differente rispetto agli anni precedenti. Abbiamo sposato già, questo è il nostro terzo anno, la tradizione di una scuola aperta, tradizione alla quale si lega ormai un dettame normativo nazionale che è quello di aprire le scuole anche nei mesi estivi. Ma quest'anno ci siamo diversificati, ci siamo diversificati con un'offerta in lingua, traducendo ed offrendo il giusto connubio fra il divertimento e l'apprendimento. Sono molto contenta, siamo in una fase in itinere dello sviluppo del progetto e sicuramente ci rendiamo conto che il feedback è positivo. È positivo da parte degli alunni che sono gli attori principali, mostrano veramente tantissimo entusiasmo, ma è positivo perché realmente abbiamo portato un clima English a scuola e fuori dalla scuola. Anche le host family, che ringrazio vivamente, stanno contribuendo alla buona riuscita proprio perché ospitano i tutor nelle proprie case, nelle proprie famiglie e quindi educano i propri figli ad un messaggio di accoglienza che è un altro valore portante della formazione di ciascuno di noi. Per il resto dico ancora buon lavoro ai nostri tutor e alle coordinatrici insegnanti di lingue, professoressa Di Stefano e professoressa Zuppardo, nonché al mio collaboratore insegnante Quartarone che sempre, devo dire, con tanta dedizione, competenza e professionalità fanno in modo che i progetti riescano e riescano molto bene. Il campus si concluderà il prossimo 8 luglio con la rappresentazione del musical show preparato dai partecipanti durante le attività. Ciao, mi chiamo Hayley, ho 20 anni e ho venuto da Inglaterra, vivo in Londra e ho avuto una esperienza in Sicilia con Bell. È stato molto bello. Ciao, mi chiamo Patrick, ho venuto di Irlanda, ho 21 anni e siamo qui a Bell English Summer Camp in Gella. Abbiamo avuto un buon momento, i ragazzi sono molto divertenti e speriamo di avere molti più a fare qui e siamo molto contenti di essere in Gella. Grazie a tutti per aver guardato, abbiamo avuto un buon momento. Grazie a tutti per aver guardato, ciao a tutti per aver guardato, ciao a tutti per aver guardato.